Devo dirvi una cosa importante, non è stato semplice per me prendere questa decisione, però mi sembra giusto che io vi comunichi la mia decisione. Purtroppo dopo due anni di duro lavoro e tanto impegno, ho deciso che questo sarà l'ultimo cappuccino che io andrò a fare. Avete capito bene, chiudo il mio profilo. E quindi per ringraziare tutti quanti per il supporto che mi avete dato, vi dedico questo cappuccino dal barista di TikTok. Pensavate di esservi liberati di me e invece no, vi ho fatto il pesce d'aprile.